Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. È stato pubblicato sul BURP numero 20 del 13 febbraio 2020 il nuovo avviso pubblico della Regione Puglia aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Si tratta di un nuovo avviso, titolo quarto, rivolto alle piccole e medie imprese pugliesi che vorranno presentarsi ai mercati esteri, incrementando il fatturato e alimentando positivamente l'immagine della Puglia in Europa e nel mondo. Sono previsti aiuti concreti fino ad un massimo di 500 mila euro. Le domande di agevolazione potranno essere presentate da imprese di piccole dimensioni, di medie dimensioni, da raggruppamenti di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di contratto di rete o da consorzi con attività esterna e società consortili di piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Puglia. Dovranno riguardare progetti di internazionalizzazione vera e propria, di marketing internazionale oppure la partecipazione a fiere in Italia o all'estero di particolare rilevanza internazionale. I settori previsti sono le attività manifatturiere, le costruzioni, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente alle attività turistico-ricettive di qualsiasi forma e dimensione, e il settore dei servizi di comunicazione e informazione. E conclude così l'assessore Borracino, Esprimo il mio compiacimento per questa nuova importante misura, frutto di un lavoro durato oltre un anno, che certamente avrà delle ricadute positive in termini economici ed occupazionali per la nostra regione.